Non sarò che il secondo promenere del castello, d'accordo? Eppure la sopravviene di molti anni, era un pezzo che fruttava qualche cosa. Però non volevo dire niente a nessuno. Ecco perché nessuno ne sapeva niente. Ma che è il signore? Chi è gridato? Oh mio Dio, è il cavallo! E' dalla me è piccata. Ma è il signore! Sì, è il povero signore! Aiuto! 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 Grazie a tutti.